chi si sente perfetto oggi questo è un tema del quale non parliamo molto poiché nessuno si sente molto perfetto e allora questa parola ci terrorizza sapete cosa ho capito delle parole terrificanti che dobbiamo fissarle dritte negli occhi e vedere se hanno tutta la paura che noi pensiamo esse abbiano allora noi andremo avanti a guardarle non le eviteremo oggi andremo a vedere cosa possiamo scoprire di questa parola perfezione e sapete una chiave di lettura molto importante per essere sicuri di quello che diciamo è di definire i nostri termini correttamente definire cosa intendiamo con le parole che usiamo per esempio peccato da quello che abbiamo già detto nella precedente presentazione peccato è o la natura che abbiamo ereditato dalla nascita o il carattere che sviluppiamo queste sono le vostre scelte il peccato del quale siamo colpevoli è la vostra natura o il vostro carattere cioè le vostre scelte allora una volta deciso questo avete automaticamente deciso cosa significa senza peccato peccato senza peccato se credete che il peccato sia la natura che avete ereditato allora continuerete a peccare per natura fino a quando gesù ritornerà quindi vivere senza peccato sarà la natura che riceverai quando gesù ritornerà allora saremo senza peccato quando gesù ritornerà se credi che il peccato sia per natura però se voi credete che il peccato è il carattere cioè le scelte che facciamo allora vivere senza peccato significa un carattere senza peccato come quello di gesù e forse dico soltanto forse è possibile fare questa esperienza prima che torni gesù allora vedete come semplicemente definendo una parola peccato avete già deciso quando e come vivere senza peccato sarà mai una realtà per l'essere umano allora la parola perfezione ha quattro significati diversi ed è per questo che c'è confusione non ci sono solo due significati bensì quattro significati per questa parola allora vediamo questi significati la perfezione assoluta intendo dire una perfezione assoluta non intendo dire una perfezione incompleta voglio dire che ogni qual volta voi guidate non sbagliate mai a prendere l'autostrada non prendete mai l'uscita sbagliata non colpite mai il pollice invece del chiodo perfezione assoluta chi è assolutamente perfetto c'è soltanto un essere in questo universo ce ne sono tre ovviamente ma ce n'è uno assolutamente perfetto dio stesso sapete che persino gli angeli non sono assolutamente perfetti gli angeli che rimasero in cielo per 4000 anni che non lasciarono il cielo rimasero leali al padre quando persero l'ultimo legame di simpatia con satana alla croce essi non capirono tutto si chiesero se dio avesse gestito questa cosa in modo giusto dio disse siate pazienti aspettate con me ve lo chiarirò persino e gli angeli dovettero riaggiustare il loro modo di pensare non è peccato riaggiustare il vostro modo di pensare quando ricevete nuove informazioni gli angeli non peccarono mai ma non erano assolutamente perfetti ebbene questa è la prima definizione la seconda definizione una perfezione di natura che è come avere una natura senza peccato come nella precedente definizione di peccato la natura senza peccato alla nascita riceviamo una natura peccaminosa non abbiamo alcuna scelta in merito alla seconda venuta di cristo riceveremo una natura senza peccato non un secondo prima che significa perfezione di natura vi prego di notare che in questo non c'è nessuna decisione umana non avete niente a che fare come siete nati e che tipo di natura avrete alla seconda venuta dio si prenderà cura di questo io lascerò questo nelle sue mani pertanto non ci dobbiamo occupare di una natura perfetta adesso perché questo non avverrà e dio ci dice non ti preoccupare io gestirò questo quindi non dovreste preoccuparvi della perfezione di natura la terza definizione un abbandono del carattere quando vieni a gesù quanto della tua vita lasci nelle sue mani tutto ora c'è una considerazione da fare su questo tutto quello che sapete su di voi stessi e su dio ci sono delle persone che non conoscono molto di se stessi e di dio il ladrone sulla croce conosceva molto del piano di dio ma egli sapeva che era un grande peccatore e che c'era un salvatore accanto a lui pensate che questo abbia richiesto della fede nonostante gesù fosse crocifisso insieme a lui colui che l'avrebbe potuto salvare il ladrone abbia abbastanza fede essendo crocifisso ebbene tutto ciò che sapete dovete metterlo nelle sue mani senza nessuna riserva nessuna cosa deve essere tenuta per voi stessi voi dovete dare tutto a lui questo significa rendere il proprio carattere bisogna dare tutto a lui ora se questo funziona bene sarà un processo di crescita nel quale voi continuerete ad apprendere di più giusto ogni giorno della vostra vita riguardo a voi e riguardo dio tu continuerai a crescere ogni giorno non sarai mai statico avrete nuove informazioni nuove comprensioni come dio gestisce le cose voi continuerete ad andare avanti e il cerchio del vostro rendersi continuerà ad espandersi e il vostro carattere continuerà a crescere e troverà nuovi territori da esplorare nuove informazioni e il cerchio si allargerà dal momento che voi continuerete a crescere nel vostro arrendervi del carattere ogni giorno della vostra vita noi siamo colpevoli a causa delle nostre scelte peccaminose la bibbia dice che perfezione è una serie di scelte senza peccato non lasciare che senza peccato vi terrorizzi è una scelta senza peccato accettare gesù come tuo salvatore è una scelta senza peccato restituire a dio un poco di quello che gli ha dato questa è una scelta senza peccato è una scelta senza peccato adorarlo nel giorno di sabato fate molte scelte senza peccato questo è arrendere il carattere che vi porterà alla maturità di carattere che è la quarta definizione e una decisione umana è coinvolta in ogni passo di questo processo allora i soli due significati della perfezione che ci riguardano oggi sono le definizioni 3 e 4 non uno o due assolutamente no natura no l'arrendersi del carattere che ci porta a una maturità caratteriale ora vorrei rendere questo punto più chiaro possibile la terza definizione l'arrendersi del carattere è il solo requisito per la salvezza ora e sempre veramente il dio non ci farà mai la domanda quanto tempo sei stato un cristiano sei abbastanza maturo quante lauree hai nella giustizia per fede non sono queste le domande c'è soltanto una domanda che il dio ci porrà c'è soltanto una domanda alle quale dovremmo rispondere mi ami con tutto il tuo cuore solo questa è una sfida alla pari puoi amare dio con tutto il tuo cuore se lo conosci appena o se lo conosci in profondità puoi amarlo con tutto il tuo cuore e se la tua risposta sarà oggi stesso dirò non ho niente da nascondere a dio che io sappia la mia vita è completamente nelle sue mani permetterò a lui di dirigermi il 100 per cento del tempo questa è la mia scelta se puoi dire questo onestamente hai la certezza della salvezza oggi anche se sai che devi maturare ancora di più devi crescere se puoi arrendere la tua vita al signore oggi tu hai la vita eterna proprio adesso pertanto la terza definizione è l'unico requisito per il cielo mentre la quarta definizione ci prepara per una vita felice alla presenza di gesù e degli angeli e del nostro padre celeste nel nostro stile di vita e nella nostra attitudine pertanto è la terza definizione che è il fattore determinante nella salvezza vedremo a cosa serve la quarta definizione mentre proseguiamo nello studio allora perfezione caratteriale è su questo che ci focalizzeremo questo pomeriggio e userò dei testi biblici e farò una domanda mentre andrò a leggerli la bibbia insegna la realtà di una perfezione caratteriale io la chiamerei una maturità di carattere voi potete chiamarla come volete la bibbia ci insegna che possiamo essere caratterialmente perfetti in questa vita voi potrete decidere mentre leggeremo questi testi biblici iniziamo con il libro di giuda versetto 24 vi dirò ancora una cosa riguardo questi versetti che ogni versetto che andrò a leggere questo pomeriggio è una promessa ci sono molti comandi nella bibbia ma oggi non leggerò dei comandi leggerò soltanto le promesse questa è la prima giuda versetto 24 a colui che può preservarvi da ogni caduta e farvi comparire irreprensibile con gioia davanti alla sua gloria non è questa una promessa avete visto che egli è capace non voi egli è capace di preservarvi da ogni caduta quando quel sentimento di rabbia ti attraversa la mente e stai per perdere la pazienza con qualcuno lui è capace di dire no cristo non lo farebbe allora neanche voi lo volete fare lui è capace lui ti preserverà lui lo farà continuiamo leggerò seconda pietro al capitolo 2 versetto 9 seconda pietro capitolo 2 versetto 9 c'è un'altra promessa la prima metà del versetto sul quale mi vorrei soffermare il signore sa liberare i pi dalle tentazioni ora se egli vi ha liberati dalla tentazione cosa non avete fatto allora non siete caduti nella tentazione non avete peccato poiché egli vi ha liberati da essa promessa numero 2 egli vi ha liberati ora la più grande promessa di tutte in prima corinzi capitolo 10 versetto 13 spenderemo un po più di tempo su questa promessa poiché è così grande così importante prima corinzi capitolo 10 versetto 13 ci sono tre promesse in questo singolo versetto prima promessa nessuna tentazione vi ha finora colti se non umana non siete soli su un'isola poiché ci troviamo tutti insieme in questa stessa barca ognuno di noi è tentato e duramente tentato ma la prima promessa è che siamo tutti insieme la seconda promessa però dio è fedele e non permetterà che siate tentati oltre le vostre forze questa è la promessa numero 2 ricordati che satana desidera di colpirci quando siamo più deboli vi siete mai accorti che qualche volta vi sentite più forti degli altri potreste essere stressati potreste essere malati potreste stare veramente male ed è allora satana vorrebbe colpirvi completamente più forte che può ma proprio in quel momento il signore dice in nessuna maniera satana essi non possono farcela adesso tu potrai tentarli un'altra volta dio non permetterà che satana possa tentarti ingiustamente in una maniera che tu non possa gestire questa promessa è meravigliosa e adesso la più grande di tutte ma con la tentazione vi darà anche la via d'uscita finché la possiate sostenere forse potremmo anche dimenticare queste definizioni cos'è e cosa non è la perfezione e tutto il resto ma semplicemente porre la domanda c'è un modo di fuggire da ogni tentazione che mi colpisce tutte quante è questo quello che dice la bibbia allora l'ultima domanda dovrebbe essere in che modo posso fuggire come faccio a trovare quella via d'uscita non vogliamo dibattere quello che è possibile e quello che non lo è solo domandiamo se c'è un modo di fuggire signore aiutami a trovare un modo di fuggire quando arriva la tentazione siamo pratici voglio essere pratico con voi noi siamo stati dei teologi per un po di tempo ma ora però smetteremo con la teologia e saremo molto pratici perché vorrei scoprire se c'è un modo pratico di fuggire quando una forte tentazione scaturisce dalla mia stessa natura come posso trovare un modo di fuggire una cosa che non mi piace di me che quando una tentazione forte mi colpisce e decido di rifletterci su per qualche motivo strano non sento il bisogno di pregare proprio in quel momento padre prima o poi lo farò ti parlerò tra qualche minuto va bene la battaglia è persa in quel momento poiché mi sono reso conto che è molto difficile peccare contro dio quando ti trovi sulle ginocchia parlando con lui in quel momento è difficile peccare amici questa però non è una preghiera d'emergenza come dire signore sto cadendo fa che io possa salvarmi velocemente si chiama invece la preghiera preventiva non è forse meglio prevenire un attacco di cuore grazie al vostro stile di vita e alle vostre scelte di vita piuttosto che avere una squadra di chirurghi pronti a rattoppare il vostro cuore dopo un attacco prevenire è sempre meglio che curare ora la preghiera preventiva è molto importante molto specifica e molto pratica vorrei che pensaste a questo modo di pregare la preghiera preventiva funziona così signore ho un problema con questo menzionando il problema nomini il problema specifico al signore non dici semplicemente signore perdonami per i miei peccati no 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 io ho questo problema con l'unico più grande peccato che vi attanaglia nella vita quel peccato in cui vi imbattete più spesso quel peccato che più di tutti vi fa sentire sporchi e dal quale vorreste arrendervi perché vi capita ancora e ancora e ancora e non sapete come affrontarlo quel peccato sarà diverso per ognuno ma c'è un peccato ve lo garantisco una tentazione nella vostra vita che va veramente oltre le vostre forze tu nomini quel peccato di fronte al signore non nominate ne cinque né tre né due nominate ne solo uno poiché potete gestirne uno solo alla volta signore ho questo problema con non ho avuto successo nell'affrontarlo non sono riuscito a vincerlo signore ti chiedo di fare qualsiasi cosa sia necessario per darmi la vittoria su questo peccato ebbene è un grande impegno qualsiasi cosa sia necessario questo potrebbe causare la perdita del lavoro della carriera una malattia un incidente ogni tipo di disastro perché il signore attraverso il vostro permesso potrà operare nella tua vita per salvarti per l'eternità siete veramente disposti a dire al signore fa quello che ritieni necessario qualsiasi cosa mi possa dare la vittoria sopra questo peccato quindi devi volerlo veramente nel caso che tu non sia pronto per questa preghiera fai qualsiasi cosa sia necessario dovrai prima pregare un'altra preghiera cioè signore rendimi disposto essere disposto sono disposto a metà desidero esserlo totalmente devi fare quella preghiera e volerla veramente soltanto allora quando lo vorrai veramente potrai dire signore ho questo problema con nominalo davanti al signore scrivilo se necessario mettilo nella bibbia fai qualsiasi cosa sia necessario per essere concentrato sul periodo avvenire della tua vita e chiedi al signore di fare qualsiasi cosa sia necessaria per ottenere la vittoria su quel peccato poi attendete e vedete il signore farà per voi cose che non crederete mai da quel momento in poi odierete quello che una volta amavate questo ve lo posso garantire amerete quello che una volta odiavate dio ha quel potere l'ho visto accadere nella mia vita voi lo vedrete nella vostra lui ci cambierà da dentro allora la preghiera preventiva è qualcosa attraverso cui possiamo ottenere la vittoria sul peccato adesso condividerò con voi una dichiarazione la visualizzeremo sullo schermo una dichiarazione ispirata che ci dirà così tanto su quello che dio può fare per noi in questo processo se satana cerca di distrarre la mente verso le cose basse e sensuali questa è la sua specialità e lo fa sempre trascinando la nostra mente giù al suo livello riportala la vostra mente a meditare su cose eterne ok come funziona riporta la tua mente sai c'è una cosa che dio non farà per te in questa battaglia contro il peccato la tentazione c'è una cosa che non farà per te nelle promesse di via d'uscita da ciascuna tentazione non sceglierà mai a cosa tu debba pensare non sceglierà i tuoi pensieri questo è un diritto divino dato ad amo e eva e l'unica cosa che c'è rimasta dal giardino di eden è il diritto di pensare e di scegliere da soli gesù ha comprato quel diritto sul calvario e tu hai il diritto di dire sì o no a dio questo è il tuo diritto e nessuno ha diritto di prenderlo da te il diritto di scegliere è la sola cosa che devi fare da solo ci saranno molte cose che non riesce a fare e che dio farà per te ma non quello devi ricondurre la tua mente a cose eterne adesso ascoltate attentamente guardate come funziona come ricondurre la tua mente sulle cose eterne ho menzionato un modo la preghiera guardiamo altri modi c'è una cosa che conoscevano molto bene i nostri genitori ma l'abbiamo persa di vista adesso sembra un po vecchia come idea abbiamo molte bibbie molte versioni qui in questa chiesa abbiamo molti modi per leggere la parola di dio forse abbiamo sei o sette bibbie a casa nostra sapete trovo strana una cosa quando teniamo dei meeting come questo chiedo di consultare un testo ma nessuno ha una bibbia in mano hanno qualcosa di metallico o di plastica e le dita cominciano a muoversi su questo metallo e plastica e dicono che stanno consultando il testo biblico puoi avere la bibbia con te in tasca in qualsiasi momento giusto la tecnologia moderna è così fantastica chi ha più bisogno di memorizzare la scrittura non è necessario abbiamo una bibbia in qualsiasi momento tirala fuori e leggi il testo tutto qui memorizzarlo e quando sei nella doccia ti svegli durante la notte la tentazione ti colpisce forte non ho una bibbia che faccio adesso i nostri genitori e nonni sapevano che la più forte arma inventata da dio contro la tentazione era la memorizzazione della scrittura ritornate fratelli e sorelle a memorizzare la scrittura e potete memorizzare le parti facili va bene non siete obbligati a imparare le genealogie è tutta la parola di dio puoi memorizzare il padre nostro va bene puoi cominciare col salmo 23 e poi impararne altro memorizza la scrittura e nel momento ecco la nel momento in cui quella tentazione arriva dal nulla e ti colpisce con potenza da dove è venuto quel pensiero immediatamente comincia a parlare le parole che avevi memorizzato non aspetti 5 minuti neanche 5 secondi subito quando quel pensiero arriva gliela farò pagare per quello che mi ha fatto subito pronunci le parole che avevi memorizzato funziona così non è difficile se hai memorizzato cinque versi di scrittura sono circa due minuti su cose eterne ed è questa la chiave giusto cose eterne se memorizzi 10 versetti forse sono cinque minuti se hai memorizzato un capitolo intero forse hai 15 minuti su cose eterne e quando finisci non ti ricordi neanche più di quel pensiero che avevi è sparito perché hai focalizzato la mente su cose eterne più testi sono alla portata dei tuoi pensieri in risposta ai pensieri tentatori più tempo hai sulle cose eterne lontane da pensieri bassi e sensuali è semplice amici dovete solo decidere di attuarlo c'è una terza via si chiama canto veramente è più facile memorizzare una canzone che la scrittura giusto e puoi cantare un salmo quando la tentazione ti compare davanti e dici ma sono così stonato non azzecco una nota dio ama gli stonati egli accetterà comunque il vostro canto ebbene ci sono svariati modi per concentrare i vostri pensieri sulle cose spirituali la preghiera memorizzare le scritture cantare potreste pensare ad altri questa nostra scelta ci dà la possibilità di essere sempre liberi nel signore lui non la farà mai per noi non ti farà la scelta di memorizzare le scritture ti aiuterà a farlo ma prima devi scegliere di farlo egli non sceglierà per te di citare le scritture dovete farlo voi voi fate la scelta è tutta tua la responsabilità non di dio ti incoraggerà ti aiuterà ti sosterrà ma dipende da te è la cosa che ti rende partecipa al processo della salvezza facendo la scelta di riportare la mente sulle cose eterne non abbiamo neanche cominciato a parlare della vittoria sul peccato tutto ciò che ho detto fino ad ora è solo inizio sono i primi passi per arrivare alla vittoria sul peccato ma senza questi passi non può realizzarsi quindi non è la vittoria sul peccato ma il processo che dà inizio alla vittoria sul peccato brevemente vedremo come questo funziona e quando il signore vedrà uno sforzo determinato da parte nostra nel ritenere soltanto pensieri puri potrà attrarre la mente come una calamita lui vuole sapere una cosa sei serio non vorresti tornare indietro satana cerca costantemente di influenzare la nostra mente per portarci al suo stesso livello ma ora che abbiamo permesso a cristo di agire nella nostra vita la nostra mente sarà innalzata al suo livello soltanto così riceviamo la sua stessa potenza contro ogni peccato egli purificherà i nostri pensieri non voi cosa che noi non potremmo mai fare noi possiamo nemmeno illuderci di poterlo fare poiché nel profondo dei nostri cuori la nostra natura peccaminosa ce lo impedisce soltanto l'opera miracolosa dello spirito santo potrebbe riuscire a purificare i nostri cuori da solo non saresti mai e poi mai in grado di purificare i tuoi pensieri la scienza sta cominciando ad aiutarci a capire questo dicono che ci sono alcune sostanze chimiche che il cervello secerne che si chiamano butons dal francese bottoni e si trovano nelle cellule nervose dove queste sostanze chimiche vengono trasmesse tramite le sinapsi da una cellula all'altra per poi distribuirsi in tutto il corpo più fai una cosa più il cervello secerne questa sostanza chimica ricalcando così un processo che resterà impresso e facile da ricordare è come allacciarsi le scarpe sarà una cosa automatica una volta imparato a farlo quando abbiamo imparato ad andare in bicicletta saremo sempre capaci di andarci poiché il nostro cervello ha automaticamente formato questo sentiero mandando messaggi a tutti gli altri organi del corpo questi scienziati sostengono che sorprendentemente facendo delle scelte queste sostanze chimiche creano dei nuovi sentieri non presenti prima che ci aiuteranno ad essere più forti di fronte a problemi spirituali possiamo immaginarci che possa significare una nuova nascita in modo scientifico perché quando qualcuno ci dice qualcosa di veramente offensivo dritto in faccia senza che ci pensiamo la nostra faccia comincia a cambiare colore è davvero semplice perché un certo input è dato alle nostre orecchie fino a raggiungere il cervello che saprà cosa fare poiché l'ha fatto altre volte prima esso manda un messaggio immediato alla parte più grande del corpo cioè la pelle dicendo ai vasi sanguigni di venire in superficie per attacco o fuga non stare lì senza fare niente proprio semplice non sarebbe una bella cosa se il signore facesse un miracolo nel purificare i tuoi pensieri iniziando un nuovo sentiero nel tuo cervello bloccando il vecchio mandare un nuovo messaggio agli organi alla pelle così potrai sorridere davanti a qualsiasi provocazione e vincere la tentazione non sarebbe bello potre essere vittoriosi da qualsiasi tentazione tu non l'hai fatto hai solo dato il permesso al nostro signore di agire ha preso la tua mente e ha cambiato quella parte del tuo cervello per farti pensare diversamente di prima è possibile avere la stessa mente di cristo ricordati così potremmo avere la sua mente questa è una possibilità egli vi darà la capacità di purificare voi stessi da quanti peccati ogni peccato segreto è così che funziona amici questa è la via di uscita la via di uscita ma c'è di più la prima opera di coloro che riformerebbe è la purificazione dell'immaginazione adesso noi stiamo diventando veramente sensibili non è forse vero perché questo è il punto più doloroso la prima opera se vogliamo farla bene è come tenere la nostra immaginazione sotto controllo l'immaginazione voi siete seduti in chiesa ascoltando stiamo attenti questo è il vero voi e il vero io il sabato in chiesa oppure il vero voi e il vero me è quando siamo tutti soli dove nessuno può guardarci e stiamo vivendo nei nostri pensieri nel nostro mondo privato facendo quello che vogliamo nei nostri pensieri perché facciamo certe cose siete completamente consapevoli che alcune delle ragioni per cui non facciamo certe cose che sono peccati è dovuta al fatto che ci sono delle punizioni se non ci fossero punizioni probabilmente le faremmo consideriamo per un momento stiamo guidando qui in città dove il limite di velocità è di 35 miglia all'ora non ci vogliamo annoiare nel mantenere questa velocità così bassa mentre desidereremmo aumentare la nostra velocità perché la cosa più interessante in quel momento da guardare è lo specchiatto retrovisore poiché siamo dei cittadini che rispettano la legge stiamo rispettando ogni piccola legge che la città ci richiede o perché l'unica ragione per la nostra ubbidienza è il timore di una multa di 300 dollari precesso di velocità questa è la nostra motivazione va bene ce l'abbiamo fatta arrivare a casa sani e salvi dopo aver parcheggiato la nostra auto in garage ci sediamo nella nostra poltrona più comoda la preferita e nella nostra immaginazione saliamo su una delle più belle ferrari che sia stata mai costruita perché ci piace la velocità le macchine ora possiamo andare non a 50 miglia all'ora ma a 90 miglia all'ora facciamo il giro della città senza preoccuparci dei semafori perché questo è solo per i principianti non ci preoccupiamo se la polizia ci rincorre ogni volta che ci scontriamo con loro noi continuiamo come nei videogiochi ci divertiamo molto nel fare quello che desideriamo nella nostra immaginazione poiché non c'è nessuno che ci può dire guarda che c'è una conseguenza nel pensare così sai che è proprio qui dove la maggior parte dei nostri peccati ha luogo proprio qui nella nostra immaginazione prima che possa trasferirsi in parola o azione qui è dove il peccato inizia nell'immaginazione pertanto se tu vuoi ottenere la vittoria sul peccato la preghiera dovrebbe essere così ti prego signore purifica la mia immaginazione quando siamo tentati di sottometterci a una immaginazione corrotta fuggi da essa verso il trono della grazia e prega per la forza del cielo fuggi verso il trono di grazia sei esattamente dove quel pensiero ti porterà ci sei già stato non è la prima volta sai dove ti porterà quel pensiero quindi fuggi al trono della grazia dicendo non voglio questo nella mia vita veramente non lo voglio prego notare attraverso il potere di dio l'immaginazione può essere disciplinata per farci pensare a cose che sono pure ed oneste se questa immaginazione viene sottomessa al controllo dello spirito di dio sarete sulla strada della vittoria sul peccato vi siete accorti che ogni cosa dopo la prima frase che ho letto parla della potenza di dio della sua presenza di dio che purifica i nostri pensieri la potenza dal cielo l'immaginazione purificata l'intera faccenda della vittoria sul peccato è circa 10 per cento nostro e 90 per cento di dio ma lui non agisce a meno che noi lo chiediamo dio non agirà a meno che noi non facciamo il primo passo nello scegliere che la nostra mente rimanga sulle cose eterni in quel momento egli prende il comando e lo prende con potenza così potrai avere il modo di fuggire dal peccato posso garantirlo ci sarà il modo di fuggire non in teoria ma veramente così dirai non mi piacciono nemmeno più cosa c'era di tanto bello allora ora li odio avete imparato che alcuni cibi sono così cose che mai avreste immaginato di mangiare e poi dite va bene le mangerò perché so che mi fanno bene e presto mi piaceranno prima corinzi 10 13 amici miei è un capitolo potente ora continuiamo nel capitolo 10 di seconda corinzi versetto 5 i prossimi tre testi che leggeremo sono alcune delle più incredibili dichiarazioni che io abbia mai letto nelle scritture vi voglio però avvertire questi versetti sono etichettati con degli avvertimenti se la vostra fede è debole se voi non credete molto nella bibbia forse sarebbe meglio non leggerli vi stenderanno verificate che la vostra fede sia abbastanza forte prima di leggere quello che stiamo per leggere seconda corinzi capitolo 10 versetto 5 e tutto ciò che si eleva orgogliosamente contro la conoscenza di dio facendo prigioniero quasi ogni pensiero fino a renderlo ubbidiente a cristo l'ho letto bene ve l'ho letto nel solo modo in cui abbia senso l'unico modo logico l'unico modo che la nostra passata esperienza ci suggerisce l'unico modo in cui la maggior parte del cristianesimo comprende la bibbia l'unico modo in cui un'altra versione del vangelo ci insegna sì voi potrete essere vittoriosi sulla maggior parte delle tentazioni su quasi ogni pensiero impuro ma questo versetto non ci dice questo facendo ogni pensiero prigioniero all'ubbidienza di cristo poiché se ogni vostro pensiero è prigioniero di cristo in questo momento domani il giorno dopo quanti peccati commettereste per il resto dell'eternità questa è una promessa che come dicevo richiede una grande fede non è basata sull'evidenza non c'è nessuna evidenza che un essere umano l'abbia fatta abbastanza bene o affatto non è basata sul senso comune non è basata sulla logica nemmeno sull'esperienza è basata soltanto sulla cruda e nuda verità sulla parola di dio punto credete nella parola di dio è la mia domanda di oggi credete in quello che dio dice non quello che dicono gli uomini riguardo la parola di dio questo testo metterà sicuramente la nostra fede al limite della prova dopo aver detto tutto questo tornando indietro su ciò di cui abbiamo parlato prima torniamo su cristo fu ogni pensiero di cristo in prigionia del suo padre celeste per quanto tempo ebbene lo fu per 33 anni giusto questo è un tempo lunghissimo per ogni pensiero pensate che potremmo rispondere facilmente a questa domanda non richiede molto tempo nel pensarci certamente ogni pensiero fu prigioniero ma soltanto dopo la nuova nascita questo è possibile per noi secondo quanto abbiamo appena letto questa è la parte difficile da credere non è vero che ogni nostro pensiero possa essere come quello di cristo questa è la ragione per cui ho speso l'ultima ora parlando di gesù cristo e la sua natura poiché se noi non comprendiamo che cristo ha affrontato questi pensieri e le ha sottomessi alla prigionia del padre non crederemo mai che potrà accadere a noi comprendere cristo e comprendere la rettitudine per fede malcomprendere Cristo è malcomprendere come possiamo essere salvati e questa è realtà di un altro vangelo che sta avendo molta attenzione in questi giorni da parte di molti cristiani ebbene proviamo un altro versetto questo è abbastanza difficile ma il prossimo sarà ancora più difficile ebbene galati capitolo 5 galati capitolo 5 a proposito una piccola nota a margine se volete essere sicuri sulla parola carne che ho citato la parola carne il versetto 17 dice poiché la carne ha desideri contrari allo spirito e lo spirito ha desideri contrari alla carne questo non è quello che sta sulle nostre ossa bensì sulla nostra mente cioè la nostra natura peccaminosa la natura peccaminosa e lo spirito santo si combattono questa è la definizione della carne ma questa è un'altra storia il versetto 16 dice questo io dico allora camminate nello spirito così voi non adiempirete i desideri della carne ricordiamoci il desiderio della carne non è peccato giacomo 1 14 ci dice noi siamo attirati dal desiderio seduti questa è una tentazione il desiderio della carne non è peccato voi l'avete ereditata dalla nascita voi la combattete ogni giorno della vostra vita è la tentazione il peccato è l'addempimento del desiderio della carne questo è peccato voi lo adempiete nella vostra mente nella vostra immaginazione va bene allora rileggiamo il testo cammina nello spirito così da non peccare questo è quello che ci dice il testo cammina nello spirito così da non peccare ora aspetta un momento questo non è giusto io ho camminato nello spirito per 30 anni e pecco ancora occasionalmente questo non può essere vero ora vedete come la maggior parte del pensare è basato sulla nostra esperienza non è basato su quello che dice dio ma come è stato per noi o per un altro che conosciamo il testo dice cammina nello spirito e non peccherai ritorniamo a cristo ancora una volta gesù cristo camminava nello spirito poteva egli aver peccato mentre camminava nello spirito dirò assolutamente no poiché lo spirito santo proibisce assolutamente di peccare nella vostra vita e nella vita in cristo il solo modo in cui possiamo peccare anche se non lo diciamo ma lo facciamo il solo modo in cui possiamo peccare siete nati di nuovo avete un cammino cristiano ma un giorno dici spirito santo potresti allontanarti per dieci minuti perché vorrei fare qualcosa in cui tu non potresti partecipare ma poi tornerò da te dieci minuti ok questo è il solo modo di peccare escludendo cristo lo spirito santo dalla vostra vita continuerete a peccare ogni volta che voi vorreste fare come desiderate lo spirito santo non sarà con voi poiché egli non parteciperà nel vostro peccato egli di amerà ancora non fate mai questo errore tornerà indietro e sarà con voi anche quando pianificherete il vostro peccato e poi il vostro pentimento noi lo facciamo anche se sappiamo che è sbagliato ma che dio ci perdonerà allora andate avanti nel pecare perché potreste chiedere perdono più tardi poi desideriamo avere lo spirito ed egli ritornerà potete credere a questo questo è come giocare con il nostro dio lo spirito santo non cesserà di amarvi ma non potrà più controllarvi non potrete più avere la mente di cristo e non avrete più la sua presenza non avrete nessuna delle cose di cui stiamo parlando mentre peccate in quel momento voi dovrete prendere una decisione lo spirito santo rimane con noi o no l'uno o l'altro e se voi camminate nello spirito voi non potete peccare è impossibile perché lo spirito santo non ci farà peccare leggeremo questo nel prossimo testo leggiamo insieme prima giovanni capitolo 3 il testo più difficile di tutte le letture l'intero passo è importante selezionerò soltanto alcuni punti in questo passaggio prima giovanni capitolo 3 vediamo il versetto 6 chiunque resta in me non pecca chiunque pecca non ha visto lui o lo conosce e versetto 8 chi commette peccato è del diavolo versetto 9 questo è davvero un versetto difficile chiunque è nato da dio non pecca poiché il suo seme cioè il seme di dio rimane in lui e non può peccare perché è nato da dio eccolo quella è la parola di dio lui non può peccare cristo non poteva peccare fino a quando lo spirito aveva controllo della sua vita lo stesso sarà reale per voi e me ora questo testo è così impossibile incredibile questo testo va così oltre la nostra immaginazione i nostri sogni che siamo arrivati a comprenderlo meglio siamo riusciti a dargli un senso a renderlo logico e ragionevole ecco come ci è stato detto di leggere questo testo nella lingua originale è al presente tornando al versetto 6 ecco come ci viene detto di leggerlo chiunque rimane in lui non pecca abitualmente versetto 8 colui che pecca abitualmente è del diavolo ora questo ha un po più senso non è vero se continuate a fare la stessa cosa senza pentirvi sarà il diavolo che avrà controllo della vostra vita ma se voi cadete di tanto in tanto occasionalmente e non abitualmente voi camminerete ancora nel suo spirito e così sarete in una relazione salvifica con dio e dio passa sopra il peccato occasionale ma non sul peccato abituale questo è troppo poiché è il diavolo che controlla la vostra vita ora se questa è la corretta interpretazione di questo testo vi farò una domanda molto importante poiché essa determinerà come sto e come state voi riguardo la salvezza quante volte a settimana posso perdere occasionalmente le staffe e mettere fine a quelle abitudini per settimana cinque volte è occasionale o abituale due volte occasionale o abituale questo è un pubblico severo potete vedere dove stiamo andando con questo contiamo le volte che possiamo pecare sapete che cos'è il peccato è quando alziamo i nostri pugni al viso di dio dicendo non mi piace la volontà non porgerò l'altra guancia non ha senso per me faccio come dico io questo ci farà contare quante volte possiamo peccare e rimanere in una relazione salvifica con dio no questo è al presente sia in lingua inglese che in greco che cos'è il presente quello che è successo cinque minuti fa è questo il presente cinque minuti nel futuro è il presente no è futuro poiché il presente è quello che succede in questo momento non nel passato nel futuro proprio adesso leggiamo questo testo nell'originale verso 6 chiunque attualmente rimane in lui non pecca nel momento presente versetto 8 colui che pecca attualmente è attualmente del diavolo poiché voi siete sotto il controllo del diavolo sotto il controllo di dio e questo può cambiare velocemente se voi siete attualmente sotto il controllo dello spirito santo in questo momento voi non peccherete ma se in questo momento voi peccate consapevolmente siete in questo momento sotto il controllo del diavolo e questo non va bene suggerisco un principio molto importante se voi avete fatto qualcosa che non avevate intenzione di fare voi avete peccato un peccato d'impulso diciamo cioè non avevate l'intenzione poiché è soltanto accaduto la cosa più importante che possiate fare in quel momento in modo di rimanere nella posizione salvifica e di inginocchiarsi a dire signore mi dispiace ho rovinato tutto ricordatevi che la mano che scivola via dalla mano di gesù cristo può ritornare a lui egli non ci dirà tu hai peccato di nuovo pertanto sei fuori dalla salvezza no se vi aggrappate di nuovo alla sua mano attraverso un pentimento immediato non intendo dire un giorno dopo non dicendo quando chiede perdono lei allora chiederò perdono io intendo dire in quel momento dite mi dispiace signore ho fatto qualcosa che ha disonorato il tuo nome ho fatto qualcosa che ha discreditato gesù cristo ti prego perdonami quella mano ritorna nella sua allora sì che scivoliamo e cadiamo ma questo testo dice che o sei sotto il controllo dello spirito santo oppure non lo sei e se non sei controllato dallo spirito questa notizia non può essere buona per quanto riguarda la tua relazione salvifica con dio pertanto rassicuriamoci sinceramente di essere sotto il controllo dello spirito santo questi testi sembrano impossibili non è vero sono veramente difficili a credere sono veramente difficili a credere ma gesù è riuscito a realizzarli possiamo noi avere la mente di cristo sto chiedendo a voi a me stesso di credere quello che dice la parola di dio malgrado quello che gli altri dicono sulla parola di dio malgrado la nostra esperienza e malgrado quello che dicono i nostri amici credete quello che dio dice e mettetelo alla prova può egli fare quello che promette abbiamo letto le promesse leggerò adesso una frase da una fonte ispirata dal libro la grazia stupenda di dio pagina 230 se avete la linea guida si trova alla seconda pagina la grazia stupenda di dio nostro salvatore non richiede dalla nostra vita cose impossibili egli non si aspetta dai suoi discepoli ciò per cui non è disposto a dare la grazia e la forza per adempierlo egli non ci chiamerebbe ad essere perfetti se egli non avesse al suo comando ogni perfezione della grazia da dare a colui a cui conferisce un privilegio così alto e santo avete notato che non si tratta di nessun comando qui ci sono soltanto promesse e sono tutte basate sulla grazia guardate queste dichiarazioni egli ci darà la grazia e la forza egli ha ogni perfezione della grazia da dare è chiamato un privilegio funziona così abbiamo due pugni e dio ci dice vuoi aprire il tuo pugno e mi permetti di versare la mia grazia che perdona io vi perdonerò il passato qualsiasi cosa nel vostro passato non vi ritengo responsabili vi tratterò come se non aveste mai peccato una volta nel passato ok? e noi che diciamo? ok versa pure la grazia che perdona fantastico poi il signore dirà ho un altro dono voi avete ancora un'altra mano volete aprire il secondo pugno e permettermi di versare ancora più grazia? la stessa grazia ma ha un'altra funzione è chiamata la grazia che supera c'è una grazia che perdona e una grazia che ci fa superare guardiamo adesso a questi altri doni questo significa che cambierò la mia vita non è vero? non guarderò le stesse cose alla televisione che prima guardavo non è vero? non mangerò lo stesso tipo di cibo che mangiavo giusto signore? amo questo dono versa pure su di me più grazia che perdona signore desidero il perdono ti prego versalo pure amo la tua grazia non so però se voglio pagare questo prezzo quale dono dei due è migliore? la grazia che perdona o la grazia che fa superare? voi sapete quanto è più importante la grazia che fa superare della grazia che perdona alla lunga? un giorno e credo abbastanza presto visti gli eventi in questo mondo che vedo intorno a me questo bellissimo dono della grazia che ci perdona ci sarà tolta da Dio e non sarà mai più vista per il resto dell'eternità ci sarà tolta mentre noi viviamo su questa terra nella nostra natura caduta semplicemente è portata via strappata via da noi perché? perché il signore dovrebbe strappare via cose da noi di cui abbiamo un disperato bisogno lo fa mai? egli semplicemente rimuove cose che non sono più rilevanti giusto? quando l'annello ha cessato di essere sacrificato quando il vero sacrificio fu offerto e l'unica ragione per cui egli toglierà via il magnifico dono della grazia che perdona sarà perché saremo ripieni della grazia che fa superare come Gesù Cristo avremo la sua mente e non ne avremo più bisogno e Gesù potrà uscire dal santuario celeste e dire la mia opera del perdono è compiuta potremo così continuare al punto vero del gran conflitto così da poter sistemare le cose alla normalità e alla felicità in virtù della grazia che fa superare questo è perché la grazia che fa superare è più importante della grazia che perdona e la maggior parte del cristianesimo vuole la grazia che perdona ma non quella che fa superare adesso amici miei abbiamo alcune decisioni importanti da prendere che cosa vogliamo realmente che cosa ci aspettiamo che Cristo faccia nella nostra vita ebbene lasciate che io vi faccia la domanda cosa pensate che la Bibbia insegni sulla perfezione del carattere nella vostra vita prima del ritorno di Gesù voi dovrete decidere per voi stessi dopo aver detto tutto questo devo ritornare un po' indietro ho detto prima che l'unica qualifica per entrare in cielo è la resa del nostro carattere ho detto questo? per gli ultimi 30 minuti vi ho parlato della maturità del carattere ho forse sprecato il vostro tempo? la maturità caratteriale non è un requisito per la salvezza il ladrone sulla croce non era maturo caratterialmente ma egli era arreso la salvezza era sua e voi potete essere salvati quando il vostro cuore si arrende anche se siete ancora molto immaturi e non avete vera comprensione di Dio e di voi stessi ma lo amate con tutto il vostro cuore allora siete salvati questo significa rendersi caratterialmente allora perché vi ho parlato sulla maturità del carattere? perché c'è un altro problema che questo mondo deve affrontare si tratta del gran conflitto tra Cristo e Satana prendere le vostre Bibbie e aprirle al capitolo 22 dell'Apocalisse qui ci troviamo alla fine di tutte le cose ispirate nella Bibbia non è vero? Apocalisse capitolo 22 versetto 11 dice ci sarà un tempo che le cose saranno differenti di quelle di adesso non saranno come oggi lui che è ingiusto che continui a esserlo e lui che è contaminato che continui a esserlo e lui che è giusto che continui a esserlo e lui che è sacro che continui a esserlo e vengo presto e il mio premio è con me da dare a ogni persona secondo le sue azioni ci sarà un tempo quando nessuna decisione sarà presa ogni decisione sarà finale e sarà prima della fine del mondo questo è quello che la maggioranza dei cristiani non credono perché il loro Evangelo non glielo permette non può accadere soltanto attraverso l'Evangelo Biblico cioè sarà la grazia che fa superare farà la differenza adesso vi porterò a due promesse incredibili che il Signore abbia mai fatto nelle scritture mi sconvolge la mente che Egli faccia queste promesse iniziamo con il libro dell'Apocalisse al capitolo 7 Apocalisse capitolo 7 sono sicuro che noi stiamo vivendo nel versetto 1 del capitolo 7 esso dice dopo queste cose vidi quattro angeli che stavano in piedi ai quattro angoli della terra e trattenevano i quattro venti della terra perché non soffiasse vento sulla terra né sul mare né su alcun albero stiamo vivendo in quel giorno gli angeli stanno lottando per mantenere questi venti posso garantirvelo così questo mondo non è un manicomio e poi versetto 2 poi vidi un altro angelo che saliva dal sol levante il quale aveva il sigillo del Dio vivente e gridò a gran voce ai quattro angeli ai quali era stato concesso di danneggiare la terra e il mare dicendo non danneggiate la terra né il mare né gli alberi finché non abbiamo segnato sulla fronte i servi del nostro Dio qual è qui la promessa? prima del ritorno di Gesù ci saranno dei venti che soffieranno sulla terra ma Dio sta dicendo non fatelo accadere non fatelo accadere fino a quando io non suggello il mio popolo non ci sarà nessuna seconda venuta e nessuna violenta distruzione apocalittica sulla terra fino a che il popolo di Dio non sia suggellato cosa significa questo? in Apocalisse 14 c'è una promessa incredibile Apocalisse 14 voi sapete di che parla l'Apocalisse 14 ci sono tre angeli che volano in cielo con l'Evangelo Eterno ma sapete che prima di questa descrizione viene descritto un gruppo di persone Apocalisse 14 versetto 1 a 5 e guardai ed ecco un agnello stava in piedi sul monte Zion e con lui 144.000 che avevano il suo nome e il nome di suo padre scritto nelle loro fronti potete immaginare cosa sia il suggello di Dio? l'avete appena letto il nome del padre scritto dentro non sulla loro fronte cioè nella vostra mente voi avete la mente di Cristo egli è totalmente in controllo di voi e sentite il versetto 5 cosa ci dice nella loro bocca non fu trovata menzogna la menzogna significa inganno o ipocrisia perché essi sono senza difetto davanti al trono di Dio wow quando voi riceverete il suggello di Dio in nome del padre sarà nella vostra fronte da quel momento in poi totalmente senza menzogna senza inganno senza ipocrisia e senza colpa davanti al trono di Dio forse è questo che darà potere al messaggio dei tre angeli cosa ne pensate forse è questo che griderà al mondo il messaggio ebbene di che cosa si tratta Dio ci ha fatto qui una promessa che egli troverà un popolo che suggellerà prima della venuta di Gesù cosa succede dopo che Dio ha suggellato voi e me senza parlare di tutti solo voi e me egli ha suggellato me e voi e dopo di questo io pecco contro Dio c'è menzogna c'è ipocrisia c'è una caduta ricordatevi che Dio non vi toglierà la vostra libera scelta per tutta l'eternità egli non toglierà la libera scelta voi potrete sempre scegliere di peccare per il resto dell'eternità Dio non vi toglierà mai quel diritto è una cosa troppo preziosa dopo aver suggellato voi o me nella fronte e voi decidete o io decido di peccare una volta questo che cosa fa della promessa di Dio eccola qui cosa sarebbe successo se Cristo avesse commesso un peccato durante i suoi 33 anni della sua vita cosa avrebbe significato la totale distruzione dell'universo il fallimento di Dio quando Dio pone il suo suggello sulla nostra fronte ed esce dal santuario celeste e chiude la prova dell'umanità cosa succede se è una persona suggellata che cos'è il suggello molto semplice è la promessa che Dio fa a questa persona che non peccherà mai più cosa succede se voi o io pecchiamo un'altra volta questo farà di Dio un bugiardo e il suo piano un fallimento come sarebbe stato per Gesù Cristo e il suggello di Dio non è come una grande scatola intorno a voi è la mente di Cristo e lo Spirito Santo dentro di te e voi potete sempre scegliere di sfidare questo in qualsiasi momento questa è la promessa fatta a Cristo che si moltiplica per 144.000 peccatori questo è quello che è questa è la più incredibile promessa che Dio abbia mai fatto in tutte le scritture potreste discutere su cosa sia letterario o simbolico non ci preoccupiamo di questo ecco qui la domanda può un'intera generazione di gente che vive in paesi diversi e in diversi tipi di ambienti può Dio attraverso la sua grazia che fa superare fare che essi non pecchino mai più contro di Lui mettendo un suggello sulle loro fronti come ha promesso può accadere? questo sì che richiede fede vero? dov'è l'evidenza che una cosa così possa essere mai accaduta se non nella vita di Gesù Cristo? dov'è la prova che Dio riesca a farcela? questa è la promessa più incredibile che Dio abbia mai fatto in tutte le scritture questo sarà fatto soltanto attraverso il miracolo di Dio entrare nella nostra mente per purificare quei sentieri nel nostro cervello per poter avere la mente di Cristo per avere quella mente che Cristo ha avuto il 100% della sua vita questo è il punto centrale vorrei per un momento chiedervi di pensare come pensa Satana ok? quando Gesù stava morendo sulla croce specialmente quando Egli fu risuscitato Satana si sentì sconfitto Egli era il peggio di se stesso pensando che non ci fosse stata nessuna speranza per lui ebbene rimango qui andrò in un angolo per nascondermi non parlerò con nessuno così potrò risolvere questa cosa ecco cosa penso basato sulle esperienze passate forse forse questo cesserà e potrò provarci di nuovo penso che farò così aspetterò fino a quando tutti quei discepoli sono morti ci vorranno alcuni anni va bene so questo ma dopo la loro morte ci proverò con la prossima generazione di cristiani per vedere se avrò successo con loro ci proverò ha funzionato nel passato e sicuramente la prossima generazione di cristiani non saranno così forti come quelli dei discepoli e sarà così per le generazioni dopo e quella dopo e potete crederci o no che nell'arco di 200 anni avrò tutto il mondo sotto controllo di nuovo e anche quei cristiani poi all'improvviso in circa 500-600 anni avrò l'intera chiesa del cristianesimo nelle mie mani di nuovo avrò controllo sul cristianesimo e per mille anni avrò controllo del cristianesimo e tutto ad un tratto il mio mondo sarà scosso un po' qualcuno inchioderà le 95 tesi alla porta della chiesa e Dio dovrà fare un passo indietro e dire aspetta un minuto così non va bene ma ho appreso la mia lezione aspetterò fino a che Martin sia morto e proverò di nuovo aspetterò che sia morto anche John Wesley e proverò di nuovo questo funziona l'improvviso la peggiore notizia uscirà ecco il popolo che Dio sta chiamando alla fine dei tempi e Dio gli sta parlando di nuovo questo non va bene ma aspetterò aspetterò sapete cosa? vi dirò che Satana ha tutte le evidenze dalla sua parte non è così? quale gruppo di persone ha mai completamente adempiuto lo scopo per cui Dio ci ha chiamati? egli ha l'evidenza dalla sua parte eccetto una cioè che le promesse di Dio sono vere e non possono mancare vi chiederò oggi di credere le promesse impossibili di Dio sto parlando della perfezione di carattere poiché la perfezione del carattere è l'unico modo di completare la missione che Dio ha assegnato all'ultima generazione sulla terra non si tratta di essere salvati si tratta bensì della vittoria di Dio sul gran conflitto ecco perché sto parlando della quarta definizione perché desidero far parte di quella generazione vorrei aiutare mettere fine alla tirannia di Satana su questo pianeta e potrà essere fatto soltanto per mezzo della miracolosa potenza di Dio spero che voi vi unirete a me in questo impegno vi chiederò di inginocchiarvi se potete con me pregheremo insieme per un miracolo se possibile padre questo pomeriggio abbiamo letto promesse che ci sorprendono difficile credere di averle lette nelle scritture padre in questo momento mettiamo la nostra completa fiducia in te non nella nostra esperienza passata non in quello che dice la gente avremo solo fiducia in te e prego per un miracolo prego per ogni persona di questa chiesa per una giustizia potenziata dalla grazia di Gesù Cristo che non abbiamo mai avuto prima e prego di seguire i passi che sono necessari per permettere allo Spirito Santo affiché controlli la nostra vita e che rifiutiamo quello che una volta amavamo signore siamo deboli e non abbiamo nessuna abilità ma avremo fiducia crederemo e chiederemo l'impossibile perché con te tutte le cose tutte le cose sono possibili signore noi ti presentiamo questa preghiera perché preghiamo soltanto nel potente ed effettivo nome di Gesù Cristo il quale è andato davanti a noi e ci ha mostrato la strada e chiediamo per quel miracolo in virtù di Gesù Cristo nostro Salvatore e nel suo nome noi preghiamo Amen